Prima di entrare nel vivo della visita, facciamo un accenno importante al sistema fondamentale che ho adottato per la gestione dei dati in Medica 2. Andiamo nella manutenzione delle voci e ci troviamo di fronte a un elenco di titoli contrassegnati ognuno da un tasto chiave, da 1 a Z, accanto ad ogni titolo c'è una combinazione di tasti per attivarlo, per ottenerlo, per riferirsi a quello, c'è la possibilità con pagina giù eccolo qua, e pagina su, quindi tornando indietro, oppure con end per andare all'ultima pagina home per andare alla prima pagina, discorrere in questi titoli o blocchi e la cosa particolare è che premendo su un tasto chiave di un blocco, per esempio andiamo all'ultima pagina dei blocchi e andiamo nei farmaci prescritti, B qui si apre l'elenco, una lista di farmaci in ordine alfabetico e che questo blocco sia ordinato alfabeticamente ce lo dice questa lettera A, qui, nella quale troviamo, scorrendo con i tasti, pagina giù, pagina su eccetera, troviamo una serie di nomi sempre messi con lo stesso schema, cioè tasti chiave e nome, per esempio questo è un nome, questo è un altro nome, queste sono le voci, il sistema 36BPV vuol dire che la voce è uno spazio di 35 caratteri identificato da una cifra o da una lettera posta alla sua sinistra, una voce può essere vuota, non ancora significativa, oppure può contenere, sto leggendo dal manuale, un'informazione sotto forma di caratteri immessi a piacere dall'utente. La pagina, cioè questa tutta intera, è l'insieme di 36 voci che compaiono sullo schermo insieme al massimo per ogni volta, è anche il nome con cui si indica la schermata unitaria, la finestra con cui si presenta e si leggono i dati in questo sistema. Il blocco è l'insieme, sarebbe questo il blocco, questo è il titolo del blocco, il blocco è l'insieme di più pagine che sono raccolte sotto lo stesso nome o d'argomento. In questo momento sto scorrendo nel blocco dei farmaci prescritti, se mi sposto nel blocco con i tasti freccia destra e sinistra, prendiamo il tasto freccia sinistra, trovo il blocco terapia non farmacologica e vedo le voci che sono nel blocco terapia non farmacologica. Se premo il tasto spazio ho l'elenco di tutti i blocchi e posso portarmi per esempio nel blocco laboratorio, normalità e patologia. Se riguarda ancora l'elenco dei blocchi posso vedere che per andare a raggiungere alcuni blocchi, per esempio laboratorio, basta che prema in qualunque momento stando in questa fase il tasto funzione F2, come pure i farmaci prescritti il tasto F7. Quindi se io premo ora F2 mi porto nel laboratorio, se premo F7 vado nei farmaci prescritti, se premo ALT1 vado nel primo blocco, il blocco numero 1, eccolo qua. Questa è una tipologia diciamo di uso, in questo momento sto scorrendo, vedete il numero progressivo dei blocchi compare qui, qui compare se l'indicazione se il blocco è ordinato alfabeticamente oppure no. La tipologia diciamo di uso dello schermo attraverso, ecco per esempio, questi sono dei blocchi non ordinate alfabeticamente. Qui quello che io inserisco resta nell'ordine in cui lo inserisco. Nei blocchi invece alfabetici un dato nuovo inserito viene messo in ordine alfabetico. La tipologia appunto di uso dello schermo per vedere questi dati è una tipologia nuova che io non ho mai visto da nessuna parte. Per questo ho avuto piacere di dargli un nome particolare appunto sistema 36bpv blocco pagina voci perché le voci compongono una pagina, sono in una pagina, più pagine comprendono un blocco e il 36 sta perché sono 36 voci in una pagina. Ecco questo è il concetto di sistema 36bpv ed è il concetto di un sistema di organizzazione e visualizzazione e utilizzo anche perché poi si vedrà quante possibilità offre questo sistema di creare delle sotto funzioni a non finire per metabolizzare, si potrebbe dire, per manipolare i dati allo scopo di ottenere delle informazioni correlate fra loro e importanti. Alla prossima!